Sono circa 5.000 le multe elevate dalla Polizia Municipale di Rimini a cittadini sammarinesi e spedite sul Titano in questi giorni. Si tratta di contravvenzioni relative agli anni 2013-2014, ancora da notificare per via delle lungaggini burocratiche tra i due stati. È vero che parte dei verbali che accertano i frazioni stradali dei sammarinesi sul suolo riminese sono già stati pagati, ma il numero è di tutto riguardo e non tiene conto, tra l'altro, delle multe rilevate da Carbinieri, Polstrada o dalla Municipale di altri comuni. La parte del Leone la giocano i divetti di sosta. Ma il problema è sempre quello. Tra l'accertamento di una violazione e la notifica della multa al trasgressore passano dai 3 ai 4 anni. Tanto? Troppo. Alla fine pagano quasi tutti, sottolineano i vertici della PM riminese, ma serve tre volte il tempo di un ruolo in Italia. Può succedere che nel frattempo i multati si siano trasferiti, le ditte siano cessate e così via. Va detto che le lamentele sono reciproche. Dalla Segreteria Esteri di San Marino più volte è stato rilevato che la maggior parte delle multe fatte ad automobilisti italiani non viene pagata, almeno nei tempi ragionevoli. Due anni fa il Movimento San Marino 3.0 ha raccolto 1200 firme per chiudere il rubinetto e interrompere la comunicazione dei dati dei sammarinesi che hanno commesso in frazione in Italia, almeno fino a che non vi sia la giusta interazione nello scambio di informazioni. Una telenovela infinita.